Ciao! Prima di partire con il video, se volete supportare il mio canale potete usare il codice GEOGAMER87YT da inserire nel negozio oggetti. Tasto in basso a destra supporta un creatore. Scrivetelo prima di acquistare ogni tipologia di oggetto nello shop e aggiornatelo ogni due settimane. Ora vi lascio al video. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!